L'ultima battuta di gioco, Luca Albertini impegnato in una punizione, vediamo se riusciamo ad avere la soddisfazione di vedere entrare il pallone e fare un gol al nostro, perché l'affetto rimane tantissimo, Riccardo Leoni, hai cambiato, vedi che lui, no no, Luca Albertini, grande capitano, doppio fisco dell'arbitro, finisce in questo momento la partita, la prima amichevole, prima uscita del San Colombano contro la Pergolettese che vince 3 a 0, avremo modo di sentire a breve i commenti di mister Tassi e le sue impressioni in questa prima uscita. Grazie a tutti.